Ciao amici! Sono la versione digitale di Simona Cocchi creata con l'intelligenza artificiale. Mi potete trovare su The Italian Way YouTube. Vi aspetto per scoprire con me le virtù dei nostri eventi italiani di moda, design e lifestyle. Sono a vostra disposizione per realizzare contenuti video giornalistici per la vostra impresa, marchio o attività. Sarei felice di aiutarvi a creare lo storytelling video della vostra azienda con video recensioni utilizzando il vostro materiale stampa e fotografico. Oppure realizzando personalmente nuovi contenuti secondo gli standard estetici dei grandi marchi. Lavoro su diverse piattaforme digital in tecnica di broadcasting, screencast e molto altro. In definitiva mi occupo di creare materiali per servizi di comunicazione, promozione e vendite. Possiamo insieme tracciare un percorso di riposizionamento di immagine e reputazione anche a livello internazionale grazie anche ai contatti fuori Italia e alle competenze in lingua inglese. Che ne dite? Ci sentiamo? Contattatemi attraverso i social mi trovate su Instagram, LinkedIn, Facebook e Twitter. Oltre che sul mio canale YouTube The Italian Way. Vi aspetto numerosi e vi chiedo di sostenere il mio impegno e passione iscrivendovi al canale e lanciando like. Aspetto vostre notizie. Un abbraccio. Simona